Ma voi che vi lamentate sempre di me? Perché ce l'ho con gli uomini. Allora, vi dico una piccola cosa su di me che potete trovare anche su YouTube Valentini Alipanti, la mia storia. Io da piccola, quando avevo l'epilessia parziale, un giorno in una piscina dei bambini, che mi è successo, che uno, un ripetente, un ex compagno mio di classe ripetente, che mi ha fatto, mi stava affogando così, con le mani sulla testa così mi spingeva giù nell'acqua e per fortuna sono stata salvata da due miei ex insegnanti, che se ne sono accorte, ecco, e ho rischiato la vita, ho rischiato davvero la vita quella volta, e non solo quella volta, ma una volta, uscendo da scuola, ve la racconto un pochino qua, ma in tutto le altre cose le andate a vedere su YouTube, sul mio canale Valentina Alipanti, la mia storia, e seguite tutti i video che posto. Un'altra cosa è stato che una volta, uscendo da scuola, uno, che non era compagno di classe mia, ma era di scuola, ecco, che mi ha fatto? Mi ha preso qui per il collo, in grembiule, mi ha alzato su con tanto di zaino che portavo in spalla, in schiena, in spalla, e non mi voleva far scendere, ecco, non mi voleva far scendere, il che, siccome non mi capiva con le buone, ho dovuto dargli due ceffoni così sugli occhi, e fargli gli occhi neri, e questo che ha fatto, mi ha lasciato, sono cascata, per futuro non ho battuto nel testa, nella schiena, nella spalla, la mia compagna ha seguito questo compagno di scuola, fino a dove abitava, perché anche lei passava nella stessa strada, per andare a casa, e ha visto questo qui, che ha citofonato ai suoi genitori, dicendogli, Valentina ha fatto così, Valentina mi ha fatto cos'ha, e così, e cos'ha, insomma, si è lamentato, mi ha detto questa mia ex compagna, e quindi, il bullismo, eccolo qua, che ho subito, ecco perché, sono un po' repellente dagli uomini, ecco, perché odio un pochino il genere uomo, e perché non credo all'amicizia tra uomo e donna, per queste cose, rifletteteci su queste cose che ho detto,